Grazie. Lascio la parola a Dario Cartabellotta, assessore regionale della Sicilia. Sì, grazie per aver voluto oggi organizzare questo incontro. Porto il saluto al Presidente Crocetta che in maniera particolare teneva a questo incontro che dà la memoria. Ristabilisce una pagina di storia su tutto quello che spesso i libri non hanno scritto. Vedete, la Sicilia è, come dice Gesualdo Bufalino, nostro scrittore, una ma tante. La nostra realtà è l'insieme di quello che fenici, greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevanguini, ragonesi, spagnoli e piemontesi hanno lasciato nel corso della storia. Tutto diventa, dice Bufalino, mischiato, cangiante e contraddittorio. Quindi quando c'è da scegliere e andare a individuare qualche passo della storia diventa sempre molto difficile. E parlando di piemontese, la cosa che viene alla memoria, già dai nostri libri, i piemontesi siedono in Sicilia negli otto anni, dal 1713 al 1720, quindi troppo poco il tempo, con Vittorio Amedeo, e poi ritornarono, dicono i nostri libri, nel 1861, nel senso che la parte iniziale della storia d'Italia in Sicilia è la storia del Piemonte, che viene ricordata dai libri, come sono convinto 300 anni, verrà ricordato il periodo di governo che ha portato a Limo, perché il ragionamento attorno ai piemontesi e all'introduzione di quelle che furono le tasse, perché prima c'era nei Borboni che c'era un'imposta progressiva sul reddito, quando arrivarono i piemontesi, che poi in realtà era l'Italia che era arrivata, si introdusse la comunale, la provinciale, l'addizionale, il focatico, il macinato, la successione, e più la leva obbligatoria è la legge Siccardi, che portò i terreni della chiesa presso una borgherizia capitalistica, lasciò la gente, tra virgolette, morta di fame, e lì partirono le emigrazioni. Io vi devo dire che sono in Piemonte con grande piacere, perché Piemonte ha fatto parte della mia cultura, scuola salesiana, quindi il Giuda e Colli, un di lontano di San Giovanni e Bosco, che ha fatto parte della mia vita per otto anni, tifoso del toro, quindi gli uventini, dicono, ne abbiano a volere, e poi vi parlerò di Giacomo Tacchis, l'uomo che ha cambiato la nostra analogia in Sicilia. Per dire come mio nonno, che era sicuramente quello che sentiva il vento del 1861, aveva una visione completamente diversa da mio padre, che sentiva il vento più recente. Era il vento che c'era stato tra la prima e la seconda guerra mondiale, dove partire per Torino e andare nelle cascine del Piemonte, lasciando il latifondo siciliano, era diventato per i siciliani un motivo di orgoglio, perché si sentiva quell'attaccamento e quella sicurezza alla terra che il latifondo siciliano aveva sicuramente lasciato da parte. Quando comincia la seconda guerra mondiale, è chiaro che i siciliani non la vivono bene, per dirlo alle parole di mio nonno, che già aveva fatto la prima guerra mondiale, ci mandarono a 33, non ho mai capito il perché, figuratevi la seconda guerra mondiale, dopo l'impreparazione militare, la vicinanza di Malta che ci portò poi tutta una serie di bombardamenti, il tesseramento annonario che fece generare tutta una serie di illegalità anche nella distribuzione del cibo, portarono alla vigilia del 1943, nella Sicilia, quel mix tra resistenza, separatismo e autonomia. Questa è un po' la peculiarità della Sicilia, dove rispetto al comandante della sesta armata, Mario Roat, che diceva che tra poco ci sarà l'invasione siciliana e resistete, dei siciliani, l'intenzione di resistere non aveva nessuno, dice la pagina della storia. Però cosa ci hanno fatto credere? Ci hanno fatto credere sempre i libri. Che lo sbarco di Gela, il famoso 10 giugno 1943, fu esclusivamente governato dalla mafia. Vedete, ci sono degli atti americani di Roosevelt, che mentre Churchill e Stalin erano convinti che lo sbarco in Sicilia fosse la cosa migliore, Churchill disse no, io non mi fido dei siciliani, perché Sicilia comanda la mafia con il suo potere di morte, con il suo potere di vita e di morte, e la Chiesa con la promessa del paradiso. Quindi le parole di Roosevelt avevano un po' scoraggiato gli altri. Poi alla fine è finita così, l'unica cosa che si legge nei libri di storia è che l'appoggio dato dalla mafia alle truppe che sbarcarono nella fattispecie da sindaco di Villalba e dal sindaco di Mussumeli fece liberare immediatamente la Sicilia. Un falso storico, perché non sono mai passati nei libri ufficiali né lo spirito antifascista siciliano, perché soprattutto quando avevano trasferito al nord tutti gli impiegati, non passò sicuramente lo spirito anglofono. In Sicilia c'è un proverbio, tutti farò guerra fuori dall'Inghilterra, nel senso che con tutti andrò in guerra, eccettuato l'Inghilterra. E soprattutto il legame diretto filo-americano, che tanti emigrati, nostre prima generazione, fino 1800, erano andati lì, e quindi capite benissimo come l'America e l'Inghilterra venivano considerate sicuramente cento volte più simpatici rispetto ai tedeschi. Dalla battaglia del Dirill e dalle morti americane, che ancora si leggono lì durante questa battaglia vicino Gela, ci furono poi tutta una serie di azioni di resistenza in Sicilia che portarono alla distruzione del deposito di armi a Gerbini vicino all'aeroporto di Catania, seglato Marco Turri, tutta una serie di lavori contro i presidi tedeschi a Mascaluccia, e poi le sacche antitedesche, perché i siciliani sempre riuscirono a organizzare una serie di imboscate fondovalle nei confronti dei tedeschi. La Sicilia forse non ha conosciuto gli orrori della guerra civile, dicono i libri della storia. Però ha dato un contributo, mi pare che su 6.000 uomini che sono stati citati nel rapporto che ci stiamo consegnando stamattina, 2.000, a cominciare da annunziato di Francesco che viene la lingua colossa alle falde dell'Etna, sia un siciliano. Ma proprio perché questo filo diretto che c'era tra Sicilia e Piemonte, questo ricordo tra virgolette di trasferirsi nella ciscina, questa cultura che legava Sicilia e Piemonte, a mio avviso unitamente al sentimento filoamericano e filo inglese caricò i siciliani nella resistenza contro i fascisti. Poi è chiaro che quella parte dei siciliani che avevano sognato l'indipendenza, perché da noi il ritorno a cadenza ciclica nella storia è sempre il movimento separatista siciliano, CNA, FAS, a un certo punto si era diffusa l'idea che la Sicilia stava con l'America, che saremmo stata la 50esima stelletta. Tutto questo con il crollo anticipato di Hitler viene meno, prima perché scema l'interesse anglo-americano ad avere la piattaforma siciliana del Mediterraneo, ma soprattutto una posizione di autonomia della Sicilia avrebbe indebolito l'Italia all'interno della Nato. La debolezza intrinseca del movimento siciliano farà il resto, fermo restando che lo Stato, per compensare tutto, cosa fa? Ci regala quello che è stato lo statuto siciliano e come è finita lo sapete tutti. Io chiudo ringraziando ancora una volta, ma soprattutto ricordando un piemontese che ha reso grande la Sicilia, ancora più dello statuto siciliano, Giacomo Tagis. In Sicilia, fino a 25 anni fa, si produceva il vino solo per darlo ai francesi, perché lo imbottigliassero loro. Un giorno arriva Giacomo Tagis, consulente dell'Istituto Vitevino, che ha avuto il piacere di dirigere, e comincia a dire ai siciliani ma voi siete scemi che fate il vino e lo mettete nelle bottiglie degli altri, pigliatevi il valore. Mi disse un giorno Giacomo Tagis, allora gli enologi siciliani capivano ben poco, perché parlando di polifenoli, che sono le sostanze che fanno grande un vino, i siciliani gli risposero ah, i polifenoli che sono la popolazione del Pacifico, quindi c'era una conoscenza sicuramente molto limitata. Grazie a Giacomo Tagis, alla sua scuola, oggi il vino siciliano è diventato grande del mondo, quindi l'occasione per ribadire perché ha fatto scuola, ha fatto scuola di filiera, ha fatto scuola di terroire, e soprattutto ha fatto passare l'idea che a ogni prodotto, anche in angolo della nostra terra, c'è un elemento della cultura che può essere incorporato all'interno del vino e del cibo. Questo gli dobbiamo, e grazie per l'invito. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie.